PODERAK Il tuo corriere ideale Guidando veloce non mi fermo mai PODERAK Questo è solo un piccolo esempio di che cosa puoi fare con l'intelligenza artificiale Non solo ti crea il testo, la lirica del tuo brano Ma addirittura anche la base strumentale che va ad abbinarsi al testo È uno strumento secondo me potentissimo Che può aiutare non solo i content creator Ma volendo anche possibili musicisti che magari hanno creato il loro brano Ma non hanno ancora in mente come intonarlo per renderlo ritmico Ecco perché oggi voglio presentarti questo servizio che ho scoperto molto interessante Come creare la musica con l'intelligenza artificiale Anche partendo da zero, quindi senza un testo Lui attraverso un input riceve i tuoi comandi e riesce a creare una canzone Infatti qui ci sono alcuni esempi di prompt che puoi dare a questo sito Che si chiama Suno E adesso iniziamo a vedere come funziona Basta premere su make a song, registrarsi Avrete poi dei piani, uno gratuito o l'altro a pagamento mensile Dopo ti spiego le differenze Abbiamo qui dei brani musicali già realizzati da altri utenti Che tra l'altro possiamo anche sfruttare per continuare la nostra musica Per esempio vi piace una determinata canzone E volete la ritmica di quella canzone Ecco potete clonarla per cercare di adattarlo con il vostro testo Abbiamo la sezione create Che ci permette di creare la nostra musica in due modalità Completamente da zero Quindi noi gli diamo il comando Lui ci crea il testo In più ci crea anche la base musicale O addirittura personalizzato Tu hai il tuo testo Gli devi dire semplicemente lo stile che vuoi nella tua musica K-pop, rock o quello che preferisci Lui utilizza il testo Utilizza lo stile e crea la tua musica Quindi cosa faremo oggi? Faremo un po' di esperimenti Nel tentativo di farvi capire Come potete sfruttare questo strumento Per creare la vostra musica La prima cosa che faremo sarà quello di creare Un brano musicale completamente da zero Per farlo basta scrivere qui la nostra frase In italiano o in qualsiasi lingua E lui ci genera testo La base musicale e anche la cover per la nostra canzone Faccio un esempio Fai una canzone pop Su Mario Il miglior fruttivendolo d'Italia Facciamo proprio una canzone completamente a caso Lui che cosa fa? Ci scala il credito Per il piano gratuito abbiamo 50 crediti al giorno Un brano costa 10 crediti Però per ogni brano ci dà due possibilità Qui vedete ci dà un'anteprima del testo E anche una cover Vedete? Con tanto di frutta Ci dà il testo Quindi ci dice Guarda per questa musica ho fatto questo brano E anche l'alternativa Abbiamo due versioni Pop e Pop Energetic Ascoltiamo cosa ha fatto Perché ci sono delle cose positive E cose che ovviamente vanno riviste Sentiamo Qui già notiamo una cosa un po' strana In questo caso Si ha fatto il brano Ha fatto la base Che magari è anche ritmica Però vedete è un pochino sbilanciato Voce e audio Ecco perché ci dà due possibilità Perché molto spesso capita che fallisce E quindi dice Ok ho fallito Allora ti do un'alternativa Per esempio Qui ha creato un'altra canzone Vediamo se questa magari è migliore La mattina quando riesco a fare la spesa Sempre lì Mi sveglio con il sorriso Mario lo so che ci sei Le tue mele sempre dolci Le tue banane sfiziose La tua gentilezza Fa da spalla Di scelta che fai Ecco già questa è sicuramente molto più carina Ma ovviamente ogni brano Essendo completamente realizzato da zero Ovviamente potrebbe avere dei problemi di rime Che magari non ci sono A volte il ritmo non è detto che sia perfetto Però capite come in meno di due minuti Senza che noi abbiamo dato nessun input importante Lui ci ha creato un testo Basandoci su Mario Il miglior fruttivendolo d'Italia E anche la base Ha fatto tutto da solo Perfino la cover del nostro album Noi volendo possiamo anche scaricare l'audio Come un video Scaricandolo come video Ci crea questo file Dove praticamente c'è la nostra lirica E poi ovviamente la canzone Sentite Molto carino se volete condividerlo nei social Pure volendo possiamo anche scaricare Semplicemente l'audio E vedete abbiamo anche la possibilità Guarda Il brano mi piace Continua Quindi cosa succede Qui per esempio A 54 secondi Cosa succede magari La musica si interrompe tutto ad un tratto Noi ci piace questa canzone Si Allora la continuiamo Basta che facciamo Continua da questa clip E gli possiamo magari noi dare la nostra lirica In questa maniera Andiamo a sistemare magari Quello che già l'intelligenza artificiale ha iniziato Ma qual è invece il mio consiglio Il mio consiglio è quello di Si Utilizzare l'intelligenza artificiale Ma magari facendovi aiutare Proprio da chat GPT Come Basta andare in Modalità personalizzata E con chat GPT Cosa possiamo fare Possiamo cercare di lavorare meglio sul testo Rimanendo sempre sul nostro personaggio Mario Il miglior fruttivendolo d'Italia Se lo chiediamo a lui Ovviamente La situazione migliora Perché OpenAI in questo caso è molto interessante Perché ci crea delle rime migliori Ci crea dei testi Ovviamente più ampi Ma attenzione Voi non è che adesso fate copia Incolla E lo andate a inserire qui Perché? Perché il problema del copia e incolla Non funziona O meglio Dovete sapere che questo software Vi fa un massimo Di un minuto e venti E tendenzialmente Un minuto e venti Corrisponde A due strofe Quindi se ci piace questo testo Che ha creato OpenAI Vi consiglio di copiare Magari Le prime due strofe In questa maniera Forse anche sono eccessive Ma penso Dovrebbe riuscire Per lo stile Vedete Lui ce lo scrive in italiano Io vi raccomando Magari di scriverlo In inglese Per esempio Pop Energetic Mario Il miglior Sei un grande Fruttivendolo Così me lo ricordo All'interno della mia libreria Faccio Crea Ha creato Due brani musicali Io li ho già ascoltati Mi ha fatto un piccolo errore Nonostante io abbia detto Maschile Me l'ha fatto Al femminile Ma non è un problema Perché Sentite Mario sei tu La prima È un po' così Cioè Ascoltandola Non è che mi garbi Tantissimo Il ritmo Però Sentite la seconda Versione Questa è molto meglio Ok Non sembra realizzato Da un'intelligenza Artificiale Oddio Forse qui Questa voce Si ma Alcuni brani Vengono bene Va bene Poderak Però tu hai messo Solo due strofe Come faccio A continuare Il mio brano musicale Adesso ti faccio vedere Siamo a 37 Ok Come faccio a proseguire Con il brano Basta che tu premi qui Premi su Continua da questa clip Attenzione A questo punto Vedi Ti ripropone Continua from Qui adesso Cosa devi fare Continui con Il copia e incolla Delle altre due strofe Vai a spendere Sempre 10 crediti Io ti consiglio Di andare a cancellare Lo stile della musica Perché Magari C'è il rischio che cambia Deve continuare Con il ritmo Che già è presente Dalla clip precedente Ok Mi ha creato La seconda parte Ti faccio sentire Arrivato a questo punto Paradiso Dei tutti Migliori Adesso Vedi Continua Senti Continua Dal precedente Brano E mi continua La canzone Va bene Poderak Ma adesso Come faccio A unire I brani Allora Tu puoi Semplicemente Scaricare i brani E che ne so Utilizzare Sony Vegas O qualsiasi Brano Per unire I vari Spezzettoni Altrimenti Tu premi Get wall song Lui cosa va a fare Ti va a creare L'intera canzone Che tu hai Generato Attraverso L'intelligenza artificiale Vedi Lui ha preso Tutto il testo Che è stato generato Poco fa E ha creato Una canzone Di 2 minuti E 35 Bellissimo Possiamo scaricarla Ad oggi Quanto costa Questo servizio Perché potrebbe cambiare Nel tempo Non lo so C'è il piano Gratuito Ed è interessante Perché ti dà La possibilità Di creare 10 canzoni Attenzione Vi ricordo Che per ogni Prompt Vi genera 2 canzoni Quindi Su carta Alla fine Sono 5 brani Che potete Creare Al giorno Se questo Non vi Basta Abbiamo Il piano Annuale O mensile Che costa 10 o 30 dollari In base a quante Canzoni Volete fare 500 o 2000 Al mese Che Devo dire Comunque Sono comunque Ben proporzionati Considerando Che se dovessi Andare su Fiverr Chiedere A qualcuno Ehi Ci fai una Canzone Magari Non è neanche Tanto carina Per una Canzone Spenderemo Chissà quanti Soldi 15 euro Riesce a creare Ben 250 Brani E non solo In lingua Italiana Ma avete sentito Anche all'inizio Del video In tantissime Lingue Per esempio Vi piace il coreano Potete creare Un sacco Di canzoni Di questo tipo Tant'è che io Guardate un po' Fino ad oggi Ho già fatto 174 Brani Per quanto Mi sono divertito A utilizzare Questa intelligenza Artificiale Capite come Questo strumento Cambia totalmente Le carte In gioco Per quanto riguarda La musica Perché in meno Di due minuti Siamo in grado Di creare Un testo E una base Musicale Che in questo video Non abbiamo sentito Nulla di così Mega super Fico Ma qualcosa È uscito fuori Ma con un po' Di impegno Veramente A volte escono Dei brani Pazzeschi La cosa interessante È che alcuni Potrebbero sfruttare Questo strumento Per guadagnarci Anche perché Tu scarichi la musica La carichi su spotify E inizi a guadagnare Attualmente Su queste piattaforme Non ci sono limitazioni Sul fatto che Tu abbia utilizzato L'intelligenza artificiale Per creare Il tuo brano musicale Però attenzione Per quanto riguarda L'utilizzo commerciale Perché io Quando l'ho utilizzato Questo servizio Mi ricordo Anzi C'ho anche Uno screenshot Che dice Che la musica La potevi tranquillamente Utilizzare Anche su youtube Con la monetizzazione Senza alcun tipo Di problema Adesso Hanno cambiato Un sacco di cose La grafica Hanno aggiunto Nuove funzioni Ma hanno cambiato Le condizioni Considerano Commerciale Adesso anche YouTube Quindi Se vuoi utilizzare I brani generati Attraverso Questa piattaforma Devi avere Per forza Il piano Pro O premiere Però anche lì Come fanno poi A capire Se la musica È stata creata Con loro O con un altro portale Non si sa Quindi È più Forse un aspetto Legale Della serie Che se fai Una musica Stra mega famosa Per spotify E diventi milionario Loro vogliono una quota Può essere un pericolo Per gli artisti Uno strumento del genere Ovvero C'è il rischio Che i musicisti Non esistano più E venga fatto poi Tutto con l'intelligenza Artificiale Secondo me No Perché comunque Si basa sempre Su un algoritmo Ok Può uscire Light del secolo Anche con questo strumento Però l'artista Rimane sempre Artista Anzi Secondo me Bisogna sempre Pensare Positivamente Magari questo strumento Aiuterà gli artisti Che ci sono già In gara A creare delle musiche Ancora più stratosferiche Ci sono però anche Degli aspetti Negativi Il primo Il metodo di pagamento Ad oggi Si può pagare solamente Con carta di credito Può essere Attenzione Il sito più sicuro Al mondo Ma io lo sto utilizzando Solamente da un mese Usare magari la carta di credito Non è proprio il massimo Attenzione però C'è gp Gp Da quel pochino Di sicurezza in più Con carta di sicurezza in più Con carta virtuale Insomma Magari utilizzate Quel metodo di pagamento O utilizzate carte di credito Usa e getta Che ci sono ormai Sul mercato Altra cosa Spesso fa degli errori Quindi Ok che ti da 500 brani musicali E Attenzione Con 500 brani musicali Puoi davvero Bizzarirti Almeno 30 brani al giorno Più o meno Riesci a farli A volte escono Veramente delle canzoni Meravigliose Che dico Wow E' veramente fatto Da un'intelligenza artificiale Altre volte Come avete anche sentito Escono delle vere schifezze Oppure Magari ti Da degli errori Insomma Non è proprio sempre Al top del top Ma ci sta Quello che Conta davvero E' saper Maneggiare anche L'intelligenza artificiale Perché Non basta semplicemente Scrivere su una tastiera Bisogna cercare di imparare Per esempio Per cercare di distinguere Quando ti deve Rilasciare Un determinato Brano Con Si ok Lo stile pop Ma quale tipologia di pop Vuoi un kipop Vuoi un pop energetico Vuoi un pop calmo Insomma Ce ne sono di vari tipi Vuoi una voce maschile Femminile Glielo devi specificare Lo vuoi veloce Lo vuoi lento Addirittura Vuoi un coro E' sufficiente Che metti Il testo tra parentesi E lui lo canterà In riverbero Con il coro Insomma Devi cercare di Conoscerlo E per conoscerlo Devi fare tanti tentativi Che ti costeranno Crediti Ma man mano Che farai Questi tentativi Diventerai sempre più esperto A maneggiare Intelligenza artificiale Strumento Secondo me Fantastico Che dà veramente Un ottimo spiraio Per il futuro Della musica E soprattutto Dà la possibilità A i creatori Magari di Avere dei brani Che ovviamente Si vanno a personalizzare Magari al personaggio E non è affatto male Fatemi sapere Cosa ne pensate Vi lascio il link In descrizione E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao